Patek Philippe Nautilus, storia e evoluzione di un iconico orologio sportivo di lusso Il Patek Philippe Nautilus, un nome che evoca immediatamente l'eleganza, il lusso e l'artigianato orologero di alta qualità. Questo orologio sportivo di lusso è molto più di un semplice accessorio da polso. È un'icona di stile che ha resistito alla prova del tempo, evolvendosi costantemente per rimanere al passo con le tendenze e le esigenze dei tempi. La storia del Patek Philippe Nautilus ha inizio nel lontano 1976, un'epoca di notevole fermento nel mondo della moda, del design e della tecnologia. Questo orologio di lusso rappresenta una pietra miliare nella storia dell'orologeria, poiché ha introdotto il concetto di orologio sportivo di lusso in acciaio. Una delle caratteristiche distintive del Patek Nautilus è la sua cassa con corona a vite, che conferisce una resistenza all'acqua di 120 metri, un attributo che lo rende unico nella sua categoria. Il nome Nautilus trae ispirazione dal sottomarino pilotato dal capitano Nemo nel famoso romanzo 20.000 leghe sotto i mari. È un nome di fantasia che ha reso il Nautilus uno dei nomi più celebri nell'orologeria. Il Nautilus 5060-SJ è stato lanciato nel 1996 e rappresenta una pietra miliare nella storia del Nautilus. Sebbene fosse stato realizzato per celebrare il ventesimo anniversario del Patek Philippe Nautilus, ha segnato anche la nascita della famiglia di modelli Aquanaut. Questo modello era caratterizzato da una cassa in oro giallo, una larghezza di 35 mm e anse tradizionali. Questo orologio è diventato un oggetto altamente desiderabile per i collezionisti. Le referenze 3710 e 3711 hanno introdotto una nuova caratteristica significativa nel Nautilus, la riserva di carica, associata a un quadrante con numeri romani. Il Nautilus 3710 è stato prodotto dal 1998 al 2006 ed è il primo modello a introdurre questa complicazione. La cassa del 3711 ha mantenuto la vista sul fondello e presentava una cassa realizzata esclusivamente in oro bianco e un quadrante nero. Questo modello ha visto l'adozione del calibro automatico Patek 315S. Il Patek Philippe Nautilus 5711 è diventato l'epitome dell'orologio sportivo di lusso in acciaio. È stato lanciato nel 2006 e ha ereditato la costruzione in due parti della cassa, ma ha introdotto alcune modifiche significative, come la larghezza di 42,5 mm a causa delle orecchie laterali. Questo modello ha adottato il movimento automatico 324 SC da 4 Hz. Negli anni, il Nautilus 5711 ha visto varie evoluzioni dei suoi movimenti. Dal 2006 al 2007, ha montato il calibro 315 SC, introdotto con il 3711. Dal 2007 al 2019, è stato equipaggiato con il movimento Patek Philippe 324 SC, che ha introdotto alcuni miglioramenti significativi, come il bilanciare Giro Max e una nuova geometria del profilo delle ruote. Negli ultimi due anni, è stato introdotto il calibro Patek 26-330 SC, che ha aggiunto la funzione Hacking per una messa all'ora precisa.